Veniamo da un capitolo di avvisi e qui ce n'è un altro. Tutti quanti ci lasciamo impressionare o meglio lievitare da qualche notizia, cioè le cose che recepiamo noi, dentro di noi, le impastiamo con la nostra vita, fermentano, crescono. Allora bisogna almeno farsi questa domanda, che cosa desidero che lieviti in me? Perché c'è una chiara alternativa. Ci sono due regni che vengono proposti, non so se vi siete accorti, però sono proprio due modi di regnare diversi. Il lievito dei farisei. C'è questa scena iniziale che è un po' significativa, anche se poi rischiamo di scivolare subito su quello che segue. Ma all'inizio il Vangelo dice che siano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda. Si calpestavano a vicenda. O come certe volte gli stadi. Si va per uno spettacolo, poi ci si calpesta a vicenda. Qui addirittura volevano sentire, ascoltare Gesù, si calpestavano a vicenda. Non so se vi... Non vi stride questa parola? Non è in stridore con il motivo per cui erano lì? Allora, ecco la questione. Che cosa desidero che lieviti in me? Perché se è il mio egoismo, non baderò al fatto che dovrò calpestare qualche d'uno per ottenerlo. No, proprio gli vado sopra. Non c'è problema. Perché? Perché la vita è così. No, non è così la vita. No. Quella vita è così. Ma non la vita. Allora, tenermene a cuore che cosa desidero che cresca in me, che lieviti in me. Perché l'ipocrisia mi porterà a questo se non mi è chiaro quale regno far crescere. E così ci viene presentato piuttosto qual è il regno del Padre, dove valiamo molto ciascuno, dove nessuno, neanche questi cinque passeri che valgono soltanto due soldi, è dimenticato davanti a Dio. E qui c'è un invito a non aver paura. Perché? Perché normalmente ce l'abbiamo. che la nostra vita sia dimenticata, che non importi, che non conti, che sia persa. Non ho nessuno che mi difenda, non ho nessuno che mi pensi, non ho nessuno che mi voglia bene. Mi cercano soltanto se c'è bisogno, altrimenti non esisto. Faccio d'è così, eh? Capitemi. Perché anche una mamma può pensare questo quando i figli la cercano soltanto perché hanno bisogno. A qualunque età. Vedo che avete capito. Qui dice non abbiate paura. Voi valete più di molti passeri. E è il discorso accorato di chi ci sta mettendo alla vita. Bene, questo ci viene proposto. Accogliamo la proposta, proviamoci. Proviamo a vedere se anche in noi può crescere questo regno di Dio. Dove si regna così. prendendosi a cuore anche delle piccolezze. Delle cose che sembrano inutili o non valere insomma cosa vuoi che sia due soldini. Ognuno è prezioso. Anzi mi permetto di dire e poi concludo che quando ci saremo accorti della preziosità delle piccole cose e chi lavora con qualche d'uno che è piccolo piccolezza psicologica, umana, fisica, spirituale si rende si rende conto che nel contatto con quella piccolezza gli diventa più chiaro il regno di Dio. Provate a farci caso. il regno di Dio è così e se di queste piccolezze ne scopriremo il valore è perché anche della nostra piccolezza Dio ci ha fatto capire quanto vale ai Suoi occhi.